E' diventato un appuntamento fisso, quello degli auguri di Natale del campione abruzzese Marco Verratti ai bambini dell'Agbe di Pescara. Appena tornato da Parigi, carico di doni, arriva, saluta tutti i suoi piccoli fan senza riserve, firma autografi e si concede alle foto, raccontando quanta serenità gli regali il sorriso di quei bambini. E così quest'anno l'Associazione dei Genitori ha deciso di omaggiarlo del simbolo dell'Agbe, i due bambini che si tengono per mano. E' soltanto un simbolo, un segno di riconoscimento nei confronti di Marco che è molto vicino ai nostri bambini. D'altronde, se vedete, sono rappresentativi del nostro logo, due i cosiddetti mammoccetti che oggi come oggi fanno anche dolcezza vedendo che altri bambini se li abbracciano e ci giocano ben volentieri. E' un piccolo dono che facciamo a Marco perché Marco è sempre vicino a noi, sono tre anni che ci aiuta, sono tre anni che dà la sua disponibilità. Accettalo, visto che hai anche un bambino, sicuramente potrai farci giocare anche lui. L'accetto molto volentieri, come ben detto sono molto vicino a questa associazione, quindi per me è solamente un piacere. Diciamo che sono felice più io, penso, che i bambini ogni volta che vengo qui. Un loro sorriso per me vale tantissimo e più di mille altre cose, quindi approfitto anche per fare tutti gli auguri a tutti gli abruzzesi, a tutti i pescaresi, a me e a tutti questi grandissimi bambini dell'associazione Agbe.